Come posso mantenere la salute degli occhi? È importante mantenere la salute degli occhi per prevenire la degenerazione degli occhi, questo è fatto con una combinazione di proteggere gli occhi da danni o lesioni del sole, e visitare un oculista regolarmente per verificare malattie come la cataratta o il glaucoma. Mantenere la salute degli occhi è in gran parte una questione di buon senso e non sforzare gli occhi. Ad esempio, è importante indossare occhiali da sole ogni volta che si esce al sole. Uno dei modi più importanti per mantenere la salute degli occhi è proteggere gli occhi dalla luce solare, che può causare lesioni permanenti agli occhi. Scegli occhiali da sole scuri con una protezione UV e UV del 100% e indossali quando guidi o cammini all'esterno. Questi aiuteranno a proteggere non solo gli occhi stessi, ma la pelle delicata intorno agli occhi, che può facilmente diventare rugosa e danneggiata se esposta al sole. Proteggere gli occhi quando si fa qualsiasi tipo di lavoro al di fuori è importante anche per mantenere la salute degli occhi. Ciò significa indossare occhiali protettivi o occhiali durante la falciatura del prato, ad esempio, o durante l'utilizzo di utensili elettrici. Se un posto di lavoro offre occhiali protettivi da indossare durante il lavoro, è importante indossarli sempre in quel momento. Questo proteggerà qualsiasi cosa dal causare danni fisici agli occhi. Gli esperti raccomandano di visitare un oftalmologo ogni anno o due per un esame regolare, i giovani generalmente non hanno bisogno di andare più di una volta ogni pochi anni a meno che non notino un problema con gli occhi o un cambiamento della vista. Un medico sarà in grado di eseguire test per determinare se si verificano o meno problemi agli occhi come il glaucoma, la cataratta o la degenerazione maculare. È importante prendere tutte queste condizioni in anticipo per ricevere un trattamento. Se uno ha il diabete, è importante sottoporsi regolarmente a esami oculistici perché il diabete spesso porta al glaucoma. Infine, mantenere la salute degli occhi trattando bene gli occhi per tutto il giorno. Non siderti troppo vicino al televisore o al monitor del computer e assicurati di fare delle pause per riposare gli occhi. Indossare occhiali se necessario e indossare solo i contatti per tutto il tempo necessario se iniziano a seccare o irritano gli occhi. Le gocce per gli occhi possono essere usate occasionalmente, ma è meglio permettere semplicemente agli occhi di riposare se sono irritati e secchi piuttosto che aggiungere farmaci.